Tanta buona per tutti ragazzi qui in San Frank che vi parla, bentornati con questo video in cui purtroppo vi devo dare la trista notizia che il super easter egg è ufficialmente morto, anzi non c'è mai stato Purtroppo iniziamo con questa nota veramente molto negativa, avevo già fatto un video ieri che mostrava praticamente le evidenze del fatto che ci fosse un super easter egg ma purtroppo nella notte è stato scoperto che l'elemento chiave diciamo che faceva sospettare alla presenza di questo super easter egg in realtà è stato un mega troll da parte di Treyarch Praticamente i dataminers, cioè quei ragazzi che iniziano a scovare e cercare nei file nascosti di gioco degli elementi, degli indizi relativi a easter egg eccetera Hanno trovato nei file video di zombie, nel particolare qui di revelations, questa immagine praticamente che vi sto mostrando, hanno notato tre file video per quanto riguarda revelations Che il nome in codice è genesis, ogni mappa ha un nome in codice per i file sorgente diciamo, cioè ad esempio zezbu e island, the rise and rake e castle Quindi insomma ci sono vari nomi in codice che sono riferiti proprio alla mappa Qui in revelations ci sono tre file video, mentre di solito abbiamo avuto sempre soltanto due video per ogni mappa Perché c'era loading movie, come è intuibile si tratta dell'intro E outro sarebbe invece la cutscene finale quando sbloccate l'easter egg praticamente, quando completate l'easter egg Come vedete qui però invece c'è un terzo file video che è nominato zm che sarebbe zombie-genesis senza alcun altro tipo di dettaglio Che faceva proprio intuire alla presenza di una cutscene alternativa che si sarebbe potuta sbloccare completando questo super easter egg Perché sono tutti quanti file criptati che si possono visualizzare soltanto eseguendo una particolare azione in game Dunque dopo alcune ore di ricerca, alcune ore di praticamente decriptazione Un utente è riuscito a creare un programma che è riuscito ad aprire questo file video senza andare troppo nei dettagli E quindi purtroppo si è scoperto che aprendo questo file video veniva fuori la intro di Shadows of Evil Quindi purtroppo è stato un mega troll da parte di Treyarch e ci ha fatto fomentare praticamente per nulla Anzi ci ha devastato questa notizia Tant'è che il subreddit di CodeZombie è praticamente stato messo privato dai moderatori per il caos che si è generato dopo questa scoperta C'è qualche utente che ha dimostrato o ha cercato perlomeno di dimostrare che il processo di decriptazione che è stato effettuato da quest'utente Non è stato corretto e che appunto infatti i processi sono stati sbagliati e quindi la chiave di decriptazione non era quella corretta Pertanto ha mostrato quel video di Shadows of Evil anziché questo eventuale finale alternativo Ma appunto un'altra conferma che questo video si tratti proprio del intro di Shadows of Evil è il fatto che Il peso di questo video coincide perfettamente fino all'ultimo byte con il peso della intro di Shadows of Evil Che era già presente naturalmente negli archivi del gioco Quindi purtroppo sembrerebbe proprio che questo super easter egg non ci sia L'unica cosa che mi lascia abbastanza perplesso è il fatto che i file audio siano stati criptati Io queste settimane ho praticamente estrapolato dai pacchetti di gioco tutti i file audio delle mappe zombie per la storia zombie Ci stiamo lavorando ragazzi, state pronti E appunto stavo aspettando soltanto Revelations per poter scaricare anche i file audio di questa mappa Tuttavia non sono riuscito a farlo perché questi file audio sono criptati E perché Triarch vorrebbe criptarli se non c'è nient'altro da scoprire? È una cosa un po' sospetta, non mi convince molto E anche perché in realtà ragazzi io con quel finale non mi sono sentito totalmente soddisfatto In termini di conoscenza della storia Perché Mob of the Dead è così importante? Perché abbiamo dovuto prendere il sangue proprio dei quattro carcerati e non ad esempio di qualcun altro? Perché ci sono insomma ancora tanti dettagli che non sono riuscito a capire E che spero appunto in qualche modo si risolvano Comunque un saluto a Mr. Frank ragazzi fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti Un bel hashtag rip super easter egg sarebbe gradito Alla prossima comunque ci vediamo con un prossimo video Alla prossima Alla prossima Alla prossima